La regione corre ai ripari. Dopo il caos generato dalla comunicazione dei nuovi percorsi per la vaccinazione delle persone fragili, con il pasticcio degli sms inviati anche a chi ha già ricevuto la prima dose, è stata pubblicata una pagina online con le risposte alle domande ricorrenti rivolte in queste ore ai centralini delle aziende sanitarie. Innanzitutto si chiarisce che le patologie per le quali è previsto l'accesso alla vaccinazione con il farmaco moderna sono quelle classificate in due categorie A e B, i cui elenchi sono facilmente reperibili sul sito della regione e che per estremamente vulnerabili si intendono anche i disabili gravi. Chi rientra nelle patologie della categoria A non dovrà prenotare il vaccino sul portale, anche se ha ricevuto l'sms con il codice, verrà contattato direttamente dalla struttura sanitaria di riferimento. Le persone con le patologie che rientrano nella categoria B e i disabili gravi dovranno invece prenotarsi sul portale e riceveranno un nuovo sms quando si riapriranno le agende. Si ricorda poi a chi non l'avesse ancora fatto di registrarsi per fornire elementi utili all'organizzazione del piano. La registrazione attualmente è chiusa ma sarà riaperta quando ci sarà nuova disponibilità di dosi. Coloro che si erano registrati ma non hanno ancora ricevuto il messaggio con il codice di prenotazione non devono allarmarsi, lo riceveranno quando verranno riaperte le agende. Chi invece ha ricevuto il codice pur avendo già fatto la prima dose del vaccino deve semplicemente ignorare il messaggio e presentarsi per il richiamo nella data e nel luogo previsti. Infine si spiega che la vaccinazione dei minori vulnerabili inizierà il 25 aprile con il vaccino Pfizer. I loro genitori o tutori verranno contattati per essere vaccinati a loro volta, mentre i caregiver dei vulnerabili potranno presto prenotare la vaccinazione con AstraZeneca attraverso un canale loro dedicato sul portale.